Stiamo lavorando per rendere possibile in tempi brevissimi la nascita di un esecutivo che rappresenti tutte le forze politiche che hanno vinto le elezioni del 2001 e dialogo nell'ultimo anno di legislatura ad una azione di governo concentrata su tre grandi questioni. Il rilancio del Meridione, che rappresenta una potenzialità per l'Inter Italia, la difesa del reddito delle famiglie, la competitività dell'impresa. Nel programma? Lei sa che le riforme sono state approvate? Grazie. Grazie. Abbiamo indicato per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri l'onorevole Silvio Berlusconi anche in considerazione del mandato che è venuto dal corpo elettorale al principio della legislatura. Grazie.